La lettera delle aquile si radunano insieme. Da fratello Joseph Branham, cara carne della sua carne, parola della sua parola, vita della sua vita, spirito del suo spirito, miei preziosi fratelli e sorelle, leggete questa affermazione, leggete ciò che Dio stesso vi ha appena chiamato. Come potrebbe qualcuno scrivere con semplici parole umane cosa significa per noi? È impossibile da esprimere. Se potessimo comprenderlo pienamente e applicarlo con tutto il nostro cuore, mentre anima, mente e anima, credo davvero che il rapimento dovrebbe aver luogo. Cosa c'è da temere? Cosa c'è di cui preoccuparsi? Satana ci combatte, ci tormenta, getta malattie su di noi, attacca le nostre menti con ogni tipo di pensiero malvagio, ma non c'è niente che possa nuocerci. Qualcosa potrebbe nuocere a Gesù? No. Allora neanche noi, Egli ha proprio detto, noi siamo la sua canna, la sua parola, la sua vita, il suo spirito. Che gioia e soddisfazione abbiamo nel cuore quando meditiamo su ciò che Egli ci continua a dire, la rivelazione che Dio ci continua a rivelare. Carico di nastri, dopo carico di nastri, dopo carico di nastri, lo spirito santo sta gorgogliando dentro di noi come un grande pozzo artesiano. Siamo stati predestinati a vederlo e ascoltarlo. Noi non cadremo e non possiamo cadere o essere fuorviati. Siamo in cammino per incontrare la nostra autorità, il nostro Redentore, il nostro Marito, il nostro Re. Il nostro Signore, il nostro Amato, il nostro Salvatore, nel luogo di incontro provveduto. Ascoltate di nuovo, la completa pienezza della Deità corporale dimora in noi, la sua Chiesa. Le preeminenze, tutto ciò che Dio era, lo riversò in Cristo e tutto ciò che in Cristo era, fu riversato nella Chiesa. Noi, la sua sposa, non qualcosa che avverrà un giorno, Egli ha detto che sta avvenendo in noi, proprio ora. Potete immaginare, sin dall'inizio dei tempi, Dio non ha mai dato il suo grande segreto misterioso che era nella sua mente a nessuno, fino ad oggi. Perché l'ha fatto? Perché stava aspettando di farlo conoscere a noi in questi ultimi giorni, come Egli aveva promesso. Egli ci stava aspettando, Egli sapeva che eravamo gli unici che potevamo, e che lo avrebbe completamente compreso. Gloria. Egli ci ha scelto, per essere la sua sposa, perché sapeva che non saremmo caduti, ci saremmo tenuti alla sua parola, indipendentemente da quello che tutto il resto del mondo aveva da dire di essa. Ci saremmo tenuti a quella parola da solo, o a quella parola. Siamo stati predestinati a essere là. Noi siamo i figli adottati da Gesù Cristo. C'è ancora di più. Ascoltate molto attentamente. Pizzicatevi. Autorità. Dio. E il corpo. Noi. Sono diventati un'unità. E Dio manifestato in noi. Dio e la sua Chiesa sono uno. Cristo in voi. Noi siamo la grande rivelazione di Dio. Siamo persino portando il suo nome. Il suo nome è Gesù. L'unto. Noi siamo il corpo, unto di Cristo. Noi stiamo manifestando Dio come fece quel corpo. Siamo la sua sposa. Gravidi del suo spirito. La Chiesa, portando figli. Gravida del suo spirito. Portando il suo nome. Portando la sua vita. Abbiamo la risposta a Satana. La talità è qui. Cristo, il Signore risorto. È qui nella stessa potenza della sua risurrezione. Che Egli è sempre stato manifestato a se stessi. Noi la sua sposa della parola parlata. Dio ora sta unendo insieme alla sua sposa e li unisce da tutto il mondo tramite la sua parola. Un'unica cosa che riunirà la sposa e lo Spirito Santo sta guidando e raccogliendo la sua sposa. In ogni epoca il profeta era lo Spirito Santo per il giorno. Pensate a questo. Ascoltare della fine. Egli diede ascoltate. Gli diede la rivelazione di tutti i segreti dell'uomo. Egli diede a quell'uomo la rivelazione delle cose che non erano neanche scritte. E disse che qualsiasi cosa avesse sulla terra era così importante che sarebbe stata fatta e cheggiare in cielo. Non c'è dubbio che Dio abbia mandato grandi uomini ripieni dello Spirito Santo in questo momento. Ma ognuno di questi uomini, anche essendo riempito con lo Spirito Santo, può essere nell'errore. Non c'è alcun dubbio che Dio abbia mandato grandi uomini ripieni dello Spirito Santo in questo mondo. Ma ognuno di questi uomini, anche essendo riempito con lo Spirito Santo, può essere nell'errore. Dio non ha mai rivendicato che quello che dicono è così, dice il Signore. Non vi ha mai detto di credere a ogni parola. C'è solo un uomo che aveva quell'autorità da Dio, il suo settimo angelo messaggero. Potete e dovreste avere un pastore. Ma se quel pastore non vi sta dicendo che la voce di Dio sui nastri è la voce più importante da ascoltare, non la sta ponendo come prima cosa davanti a voi, ascoltando i nastri con voi, non solo lui che vi dice questo è ciò che il profeta ha detto, avete il pastore sbagliato. Comunque vi stia guidando, anche se affermate che lo Spirito Santo è meglio che vi unisca a questo messaggio, a quella voce. Poiché essa è l'unica voce che possa dire, io sono la voce di Dio per voi. Se siete predestinati a vederlo, lo vedrete. Se no, non lo vedrete mai. Non siete predestinati a vederlo. Vediamo unirsi nelle nazioni, vediamo unirsi il mondo, vediamo unirsi le chiese, vediamo unirsi la sposa, unirsi con la parola, perché la parola è Dio, è come la parola, come lo sposo. Essendo la parola, essendo l'ascoltatrice della parola, si uniscono insieme, in un'unione, si uniscono come un matrimonio, vedete? Si stanno preparando per un matrimonio e loro, loro diventano uno. La parola diventano voi. Voi diventate la parola. Gesù disse, in quel giorno lo conoscerete, tutto ciò che il Padre è, io sono, e tutto ciò che io sono, lo siete voi. E tutto ciò che siete voi, sono io. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre, il Padre è me, e io in voi, voi in me. Vi invito a unirvi, a venire, a unirvi a noi, attorno alla voce di Dio, questa domenica alle 12, ora di Jeffersonville, mentre ascoltiamo il tempo e il segno dell'unione. 63-08-18 Fratello Joseph Branham Scritture da leggere prima del servizio Salmo 86, versetto da 1 a 11 e San Matteo, camittolo 16, versetto da 1 a 3 Questo conclude E vi chiedo ancora di sottoscrivervi a svfellowship.org E ancora a brannameltabernacle.org Dio vi benedica e shalom Grazie a tutti